salve ragazzi volevo mostrare queste belle schede SD tra cui alcune tra virgolette con meno velocità e altre con più velocità ma voi mi domanderete come si fa a riconoscere qual è quella bassa velocità e quella ad alta velocità? Prima di tutto dalla classe la classe è un numero che si vede qui da questa parte c'è una c con un numero all'interno in questo caso è una classe 4 che vuol dire che va a 4 megabyte al secondo diciamo che è quella classica che si acquista però che cosa vuol dire sd hc che molti mi domandano o vi domanderete è un acronimo sd high capacity alta capacità e vuol dire che con questa dicitura vanno da 4 gigabyte a 32 gigabyte di più non le troverete con questa dicitura invece se c'è scritto sd xc vuol dire che è estender capacity estesa capacità e vanno dai 64 gigabyte a 2 terabyte riteniamo alle classi allora le classi si possono trovare da 2 da 4 da 6 e da 10 abbiamo detto che 4 vuol dire 4 mega da 2 vuol dire 6 mega da 6 mega da 10 vuol dire 10 mega di velocità minima garantita e non c'è solo quella sigla c'è anche un'altra sigla allora che vi faccio vedere la kingston sd hc è uguale c'è una u con un numero dovrebbe essere sd hc prima classe u1 sarebbe sì praticamente con questa va costante a 10 megabyte al secondo e arriva può arrivare dai 50 fino ai 104 megabyte al secondo poi esiste anche la UHS perché la dicitura è UHS classe cioè classe UHS2 allora in questo caso vuol dire che arriva a una velocità di 156 megabyte a 312 megabyte è molto uno dice ma cosa se ne fa di una velocità così elevata molto utile per per esempio per le videocamere fotocamere così quando uno fa lo scatto ci impiega qualche secondo a registra proprio pochi sicuro neanche un secondo per poter registrare la fotografia nelle sd o nella micro sd che sono la stessa cosa cambia solo il formato che è più piccolo e poi esistono anche le sd hg hc ultra come il sandisk questo vuol dire che ha una velocità superiore a quelle della kingston almeno di questo modello quello grigio e arriva a una velocità di 48 megabyte al secondo e non è poco eh sempre classe 10 sd hc i penso di avervi più o meno spiegato le differenze se c'è qualcosa che non capite scrivetemelo nei commenti e ci sentiamo alla prossima recensione grazie per la visione ciao ciao ciao